ciao a tutti benvenuti a questo nuovo video oggi parliamo di premi e concorsi che è una cosa che alcuni hanno chiesto vale la pena per un compositore di colonne sonore partecipare a concorsi partecipare a iscriversi a premi e premi vari a un senso a un'utilità cosa può portare di buono sono una perdita di tempo non servono a niente allora io ho una mia opinione ben precisa premetto io di concorsi e di premi in generale indipendentemente dal concorso insomma ho partecipato a molti insomma alcuni sono andati meglio alcuni sono andati peggio i concorsi fanno sempre chiaramente piacere quando quando si vincono si hanno delle delusioni medio medio piccole diciamo quando non si vincono ma non ci danno la cifra del nostro della nostra arte del nostro lavoro perché poi quello che viene giudicato è esclusivamente personale soprattutto se parliamo non di musica to cure ma di musica per immagini lo stesso morricone ha detto più volte che lui si è trovato molto in difficoltà quando ha fatto parte di alcune giurie per giudicare dei lavori di giovani compositori perché in realtà non esiste un modo unico di sonorizzare di musicare una scena ci sono tanti modi quanti sono i compositori che musicano quella scena e tutti a modo loro sono sono adeguati o sono sono esatti insomma almeno morricone da questa esperienza di giurato diceva che aveva difficoltà a decidere perché a modo loro tutti andavano bene poi c'erano alcuni che potevano piacermi di più o piacermi di meno però tutti andavano veramente bene quindi poi il giudizio finale è una cosa relativa perché dipende dal gusto di chi di chi vede di chi giudica l'opera insomma se io dovessi fare il giurato in un concorso ovviamente lo farei in base ai miei gusti personali al mio background in base alla musica che mi piace ascoltare ma in base alla musica che provo piacere ad ascoltare insomma quindi poi ripeto indipendentemente da come viene gestita la scena poi ci sono ovviamente dei casi in cui sono dei clamorosi errori di sincrono oppure di interpretazione ma sono diciamo abbastanza rari quindi quando partecipiamo a un concorso dobbiamo sapere che non lo facciamo tanto per dire il mio modo di gestire la scena è migliore dell'altro partecipare ai concorsi è un modo per mettersi alla prova e per avere soprattutto degli stimoli ben precisi parlo soprattutto per quei compositori che non hanno una grande esperienza ovvero non hanno ancora fatto un film completo un documentario hanno fatto solo dei piccoli lavori o dei cortometraggi insomma cose cose piccole il consiglio è sì partecipare ai concorsi e premi perché sono utili per mettersi alla prova innanzitutto sono un banco di prova per la gestione del tempo se devo partecipare a un concorso non posso perdere troppo tempo non posso perdere un mese o due mesi a lavorare alla musica perché poi i tempi di consegna del concorso sono di solito abbastanza stretti e questo mi sarà utile perché poi quando mi trovo a lavorare veramente a un film o a un cortometraggio a livello professionale i tempi sono strettissimi e la data di consegna è quella non si può consegnare né un'ora dopo né tanto meno un giorno dopo quindi partecipare ai concorsi innanzitutto ci abitua a lavorare in economia di tempo sappiamo che con quel tempo a disposizione posso fare tot e quello devo fare insomma quindi è già la primissima cosa importante secondo perché sono una fonte ispirazione che magari inaspettata in alcuni concorsi ci vengono già dati dei filmati da su quali lavorare cose al quale non avremmo pensato insomma perché non avremmo preso quello come fonte di ispirazione e poi è un modo per ascoltare il lavoro degli altri partecipanti quindi per sondare un pochino qual è l'aria l'area che c'è in giro poi ovviamente questo indipendentemente dal risultato perché i risultati sono veramente ve lo assicuro indipendenti dalla nostra bravura parlo dei premi più piccoli fino ai più grandi gli oscar ad esempio non non sono convinto e poi ho fatto un altro un video che magari cercate nel canale dove spiego come funzionano gli academy awards io non sono convinto del fatto che il 5 che arrivano alla nomination e soprattutto il vincitore siano il mio riscore dell'anno ci sono vari parametri che andranno a giudicare questa cosa qua ad esempio io sono abbastanza convinto perché come per come conosco gli academy awards che quest'anno siamo nel 2017 potrebbe ricevere una nomination se non vincere l'oscar la la land perché è un musical perché ha un background molto forte molto accentato su un certo tipo di jazz e conoscendo quali sono i membri votanti dell'academy potrebbe essere una cosa che a loro piace molto quindi se io vado a inseguire i gusti è ovvio che sono più non dico facilitato ma posso guadagnarmi le grazie del votante insomma questo in concorsi più piccoli ovviamente non un discorso che non si può fare però era solo per spiegarvi che non è che il miglior score con una sonora vince ma vince quella che in quel momento quegli specifici giurati giudicano più adeguata e più vicina alla loro sensibilità musicale insomma quindi i concorsi si sono importanti da fare fateli ma indipendentemente dal risultato poi se arrivano premi riconoscimenti sono ci fanno piacere e ci riempiono di ego e di gioia e vanno a coprire le tante sofferenze tra virgolette che il compositore patisce di giorno in giorno in tanti momenti di scoramento insomma hanno un'influenza grande sul sulla carriera penso sinceramente di no perché il regista che col quale il prossimo regista con quale andremo a lavorare in realtà è più interessato alla musica che ai premi che vinciamo è difficile che il regista scelga un compositore perché ha vinto tanti premi si è un discorso di public relation il vostro agente se avete un agente sarà contento che vincete premi perché a modo di pubblicizzarvi di più però il regista poi in realtà è disinteressato da questo anche a grandi livelli il produttore della più grande casa cinematografica vi considera sempre comunque l'ultima arrivata anche se avete vinto vari premi o addirittura un oscar quindi i riconoscimenti ci fanno lavorare di più sinceramente non ne sono convinto anzi esiste anche il dramma del vincitore all'oscar molti vincitori di oscar dopo che hanno vinto l'oscar hanno lavorato anche meno in alcuni casi date un'occhiata a chi sono i vincitori di alcuni anni e vedete che la cosa non è automatica alcuni lavorano moltissimo ma avrebbero lavorato tantissimo anche se non avessero vinto l'oscar quindi i premi piccoli o grandi che siano ripeto sono una cosa più per noi che per trovare lavoro ho fatto questo video perché a tal proposito c'è in ballo come in questi giorni poi metterò il link qui sotto al video il premio carlo gargioni questo è il sito colone sonore che presenta questo questo premio è un premio dedicato ai musicisti in questo caso quest'anno si apre alle colonne sonore oltretutto non dovete per partecipare a questo premio come ad altri concorsi insomma non dovete aver fatto necessariamente un film necessariamente un cortometraggio va bene qualsiasi tipo di video che avete che avete musicato voi e molti mi chiedono mi hanno chiesto a se devo partecipare a un concorso non ho fatto mai una colonna sonora nel senso non ho mai lavorato ad un film non ho mai lavorato un cortometraggio come posso fare non ho video non ho niente come come faccio insomma il consiglio che vi do è ma sono di vari tipi se non avete un cortometraggio che necessita di una musica originale che ha fatto non so un vostro amico oppure un regista che già conoscete prendete qualcos'altro di avulso vi do tre tipi di consigli anzitutto sparatevi ovviamente su youtube e trovate già una marea di materiale la prima cosa che mi viene in mente è il film muti silent movie prendete un qualsiasi film muto io qualche anno fa ho fatto scritto una colonna sonora per il per lo sferato per alcune parti lo sferato mi piaceva molto a quale lavorare basta cercate silent movie su su youtube è già trovato una serie di film da chaplin eccetera eccetera bisogna avere i diritti d'autore per utilizzare questi film in realtà no perché fin che li utilizziamo per dei concorsi piccoli o per delle cose così semplici non non occorrono particolari diritti perché è ad uso e consumo personale per studio per tutti gli effetti quindi prendete uno di questi film lo scaricate per scaricare da youtube ci sono mille siti uno si chiamava keepvid mi sembra ma ci sono anche delle delle applicazioni io tempo fa utilizzavo questo qua si 4k video downloader in questo caso adesso non lo apro che ci aiutano a scaricare in formato mp4 il video dopo in questo formato mp4 lo mettete su cubase ad esempio e iniziate a dire a lavorare è semplicissimo quindi su youtube trovate un sacco di materiale la prima cosa ripeto sono i film muti ed epoca che è una buona una buona idea oppure un'altra idea e prendete la una scena famosa di un film che vi è piaciuto molto e lavorate su quella ad esempio non lo so big fish mi mette perché una volta ho fatto una scena big fish allora ok c'è questa scena qua qua c'è la mia faccione quindi non lo vedete insomma allora però è la scena vabbè non so se riuscite a vederlo dietro la mia faccia questa cosa qua questa scena qui poi la scena dove lui vede lei come vedete basta che io ho tolto la musica e già è una scena che io posso andare a lavorare come togliere la musica semplicissimo una volta scaricato il video importato su cubase cubase vi farà vedere una traccia audio una traccia video io vado a mettere la traccia video scusate la traccia audio e vado a fare la crona sonora di che mi riguarda poi per rimetterli insieme questo anche mi è stato chiesto di solito utilizzo movie maker che è un programma che è già su gratuitamente su windows ma ci sono altri programmi gemelli su i movie esempio su una piattaforma apple macintosh e col wave che poi esporterò della musica che ho fatto io su da cubase l'andrò a montare con questo video il quale potrà trovare musica con movie maker oppure con i movie e questo ho fatto insomma vi serve una scena più azione andate a prendere una scena di star wars il consiglio è prendete dei film che non hanno già una musica troppo iconica anzi prendete un titolo un film guardatevi le scene come stavo facendo adesso io senza ascoltare la musica perché potrebbe influenzarci troppo e poi scrivete semplicemente la musica che vi pare sempre neverland film ok questo è un trailer vediamo e questa è un'altra scena io posso andare a fare questo poi dipende da la cosa per quale vi sentite più portati se per la commedia per l'azione per il film epico andate a prendere non so la scena del gladiatore ripeto il gladiatore non sarebbe forse la scena la scelta più adeguata perché la musica è davvero molto conosciuta e molto famosa insomma prendete una qualsiasi scena di un qualsiasi film togliete la musica togliete anche il dialogo perché non serve per mostrare a una giuria come lavoriamo con con la musica e quello che rimane è il video sul quale possiamo poi lavorare poi esportare come vi ho detto un'altra idea che che vi posso dare è utilizzare dei film magari non anche troppo nuovi anche cose molto molto vecchie soprattutto i film fino agli anni 70 80 hanno molto meno musica poi dipende da film a film perché star wars ha musica dimensioni alla fine però alcuni film hanno molto meno musica dei film che si girano oggi quindi ci sono molte scene dove abbiamo già i dialoghi quindi dobbiamo tagliare fuori tutto l'audio ma abbiamo possiamo mantenere l'audio originale perché in molte scene dove ci sono anche i dialoghi non c'è in realtà la musica quindi anche quella è una buona idea io qualche anno fa ho fatto oltretutto per un corso che ho fatto con Giacchino a Ubeda in Spagna avevamo presentato dei lavori su film che avevano già una colonna sonora però dovevamo lavorare su scene dove la colonna sonora in realtà non c'era ma perché il film nasce proprio così quindi quella è un'altra buona idea un altro punto di partenza potrebbe essere prendere le scene per esempio un non lo so per lavorare su una musica un po' d'azione vediamo un incontro di box vediamo se ne troviamo uno ma è bello da vedere allora ma Mohammed Ali allora vediamo un po' questo qua se si vede proprio l'incontro ok ad esempio questo è un è un tipo di filmato o in generale filmati sportivi che sono buoni per lavorare sulla musica adesso lasciate stare che in questo caso ci sono magari anche dei dialoghi però dopo un incontro di box è una buona idea per lavorare sulla musica sono musica d'azione dove ci sono molti molti sync ovviamente poi in rete trovate anche molti cortometraggi di animazione su cui potete lavorare animation short ne prendete uno qualsiasi meglio se uno che non ha dialogo ok quindi potete andare a togliere direttamente la musica non ci occorre nient'altro basta togliete l'audio e già avete adesso da qua non vedete magari però già avete un punto di partenza per lavorare sul su un video di animazione insomma che è un allenamento eccezionale per questo dico è importante lavorare ai e partecipare ai concorsi altrimenti non avreste questo stimolo queste idee e questi presupposti insomma quindi sono un ottimo modo per mettersi alla prova e vedere quanto riusciamo a lavorare in fretta con una scadenza ben precisa perché altrimenti nessuno di voi avrebbe avuto in mente di fare queste cose che vi sto dicendo magari qualcuno sì ma per lo più no se almeno mi seguo la mia esperienza i concorsi mi sono serviti tantissimo per fare delle cose che poi non avrei mai fatto e grazie a queste cose che nelle quali mi sono cimentato poi in realtà ho preso dei lavori perché questo è tutto materiale ragazzi che poi vi trovate come demo da mostrare ai registi insomma un'altra idea sempre andando a pescare da youtube fatemi pensare potrebbe essere quella ad esempio se volete provare a lavorare con dei con dei dialoghi cioè a lavorare con la musica che gira intorno a una voce perché è una cosa che un compositore deve poter saper fare benissimo prendete un dialogo di un presidente una parte insomma questo è il dialogo del Dio del buon Obama il dialogo scusate il monologo insomma di Addio magenta la musica a qualche parte ok è già una buona idea ok poi ci sono anche non so video sportivi youtube è una fonte inesauribile per questo anche piccoli documentari ci sono è una fonte ripeto incredibile di materiale che potete utilizzare per i concorsi appunto in questo caso il premio Carlo Gargioni vi dà questa possibilità perché non è richiesto di aver fatto necessariamente un film ma potete portare un video della durata che preferite la scadenza del concorso è a breve ma io penso che ci sono anche delle possibilità che verrà procrastinata insomma questa scadenza quindi questo è uno dei tanti concorsi che sono disponibili poi magari sulla pagina di composizione digitale ogni volta che ce ne sono alcuni nuovi ve li segnalerò questo vi consiglio di partecipare perché è molto interessante la giuria è di qualità sicuramente il costo è anche minimo per la partecipazione è un modo per mettervi alla prova sul materiale che volete e che preferite mentre i concorsi vi danno un video che è poi uguale per tutti quindi in questo concorso ad esempio è buono perché potete presentare quello che veramente preferite sia come vostra musica che come video al quale è abbinato la musica quindi concorsi sì il risultato alla fine ci interessa poco ma sono uno stimolo importante per metterci alla prova e per avere poi del materiale nel nostro showreel nel nostro video demo che presentiamo nelle viste ci vediamo tutti al prossimo video ciao ciao ciao